cari quaddisti buongiorno eccoci articolo tecnico sostituzione semiasse posteriore comunque anche fosse un semiasse anteriore non cambierebbe in questo caso stiamo lavorando su un articat 650 4x4 ovviamente motore Kawasaki allora abbiamo visto che molti clienti ci scrivono che hanno problemi a estrarre il giunto macinetico centrale esattamente lo vedete questo giunto macinetico centrale dalla sede della coppia conica e non sanno come fare in realtà non c'è nessuna bacchetta magica tante mazzate e ovviamente l'utilizzo di un estrattore se lavorate da soli sono uno tiene in trazione semiasse l'altro tira le legnate con un con un martello di tira tante legnettone e un martello e un distanziale innanzitutto dovete partire smontando completamente il retrotreno del vostro mezzo nel caso di servirà ad onor del vero quasi sempre una brugola del 17 che aveva del 17 volete voi noi usiamo questa martello del atta tirate giù come cerchio arrivate al mozzo ruota il mozzo ruota che è questo mi farà tirare mi tirano un po di me tirano un po di madonna sinceramente a causa della spina dovete prima togliere la spina e poi svitare il bullone a castello scusatemi bullone il dado a castello sfilata il mozzetto supporto ruota e mi resterà il perno del semiasse in questo caso se mi assi era rotto era andato si era tutto il seggio interno ha fatto un disastro spaccato tutte le sfere e quindi è rimasto attaccato qua per comodità l'abbiamo lasciato qua svitate il dado a castello sfilate il mozzetto dal mille cavo del semiasse congiunto omocinetico aprite questo questo perno superiormente sfilate il mozzo ruota vi si libererà il semiasse intero e poi arriverete ad avere questo semiasse praticamente libero ovviamente sono state smontate anche le sospensioni quindi recuperiamo e capitoliamo via la ruota via il dado a castello del mozzo sfiliamo il dado a castello del castelletto del mozzo ruota via castelletto del mozzo ruota sfiliamo il aperto che tiene la sospensione che tiene l'armo superiore il mozzo ruota verso il basso a questo punto possiamo ci troviamo con il semiasse libero in mano normalmente se un semiasse non ha ossidazione sul moccinetico centrale questo viene via subito ma purtroppo basta tirare un colpone forte ma spesso le situazioni ci sono allora a questo punto vi servirà questo estrattore o un estrattore simile che caratteristiche deve avere questi bracci devono essere veramente lunghi e questo è il perno che va a spingere per avere una parte dove spingere perché ovviamente sul moccinetico centrale non potete verrà vi consigliamo di attaccare una barra in cromo libdeno questo è il classico una barra di acciaio in cromo libdeno in modo da poterci posizionare il perno il perno di spinta i due bracci gli andate a attaccare sulla parte risvolta del semiasse che vi facciamo vedere meglio sul semiasse nuovo è esattamente questa e andate ad attaccare qua con delle l quindi poi tirando il perno che va in appoggio sul braccio di acciaio che avete messo sempre centrale mi raccomando sono una mia via poi farete una grossa forza di di tra i noti di tiro al vostro semiasse che inserito all'interno della coppia conica centrale e tenuto da questo seggirino qua come potete vedere allora una volta che in spinta poi prendete una bella mazzetta da un chilo e mezzo un chilo e 50 comunque una mazzetta da un chilo un distanziale in ferro cercate di avere degli spiegoli vivi dove battere quindi voi mettete in tiro l'estrattore quindi cercate di tirare fuori date una forza di estrazione l'estrattore costante poi questo non verrà mai fuori da solo solo con questo quindi non tirate l'impossibile questo dato perché spaccate tutto lo mettete in tiro in modo da deformare la parte esterna come potete vedere l'abbiamo fortemente deformata a questo punto quando la vedete che state deformando state deformando il bordo appoggiate il distanziale su una parte del bordo non presa dall'estruttore e con la mazzetta da un chilo tirate sonore legnate al bordo in questo modo cosa succede voi state dando una vibrazione ulteriori kg di spinta a un tiro costante a questo punto anche se ossidato il vostro semiasse mollerà e blum tutto il giunto macinetico inserito in coppia conica salterà fuori a questo punto dovete solo tagliare i blocchi che avete messo la vostra barra di cromo libdeno togliere la barra di cromo libdeno e sfilare il semiasse incriminato signori spero che questa spiegazione sia stata di interesse ai vari utenti che ci chiedono disperati come fare e perché no anche a qualche concessione ma non so probabilmente come sfilare un giunto macinetico della coppia conica centrale di un quadriciclo ricordatevi che non c'è mai nessun blocco che su quale potete agire seggere brugole grani o quant'altro per il fissaggio dell'omo cinetico a metterla nella coppia conica quindi è solo una questione di dare una forza in tiro una tensione costante e poi vibrazioni e ulteriore colpi per far saltare e comprimere quel piccolo seggere che lo tiene al suo posto mentre il mezzo viaggia signori da coadisti.it un grande saluto ciao un salutone anche a acqua center team del mario bertone di marosti questo è un suo mezzo è un mezzo di stato acquistato da lui l'officina di mario è in grado di fare questo senso senza problemi e questa è una spiegazione per gli utenti siamo sempre a disposizione per qualsiasi altra a qualsiasi altra vostra esigenza e a fare un articolo tecnico al proposito è sempre a fare è sempre un piacere per voi signori del ferro da coadisti.it forum tecnica un grande saluto e tante tante quadrati a proposito piccola marchettone pubblicitaria tramite la nostra squadra corse potete acquistare spettacolari assali completi con omicinetici guardate che lavoro fatti al centro di lavoro in acciai che le case madri si sognano ma si sognano giunti con delle sfere che hanno delle caratteristiche ritenute che piuttosto che rompersi vi strappa via il telaio questi sono bei prodotti se ne avete bisogno dateci una chiamata e vediamo se riusciamo a farvi contenti signori dal ferro la squadra corse quadristi.it un grande salutone e alle prossime visto che stiamo rifacendo la testa rifacendo una testa ma stiamo schisciando un po speriamo di potervi fare un articolo sul aumento della compressione sostituzione albero cam anticipo cam è un po di cosine abbastanza interessanti signori del ferro un piccolo articolo tecnico sulla sostituzione semi asser danneggiato e estrazione dell'omocinetico centrale della coppia conica centrale signori dal ferro quadristi.it buongiorno va che be' va che be'